Cerchiamo di vedere nuovamente il replay per capire... Allora, l'atleta norvegese che è la prima ad innescare la caduta, è scesa dal ciglio della strada, ha provato a risalire e anche questa è uno dei modi, se non si fa l'operazione, in modo efficace è una caduta sicura e purtroppo poi molte le sono rovinate addosso e naturalmente altre cadute si sono innescate contemporaneamente mi sembra, io non ho visto anche il gruppo, no, attenzione, l'ho bo...